Pachino, riapertura Guardia Medica, l'ASP manca di visione strategica. A distanza di una settimana dalla manifestazione del scorso 26 luglio a Pachino organizzata dalla CGL denunciamo che ancora tutt'oggi nulla è cambiato rispetto alla chiusura della postazione di Guardia Medica. Non ci bastano le rassicurazioni a mezzo stampa fatte dalla Direzione Generale rispetto a un impegno a trovare soluzioni che ad oggi non hanno prodotto alcun risultato. C'è la riapertura con la presenza dei medici della Guardia Medica di Pachino. Purtroppo la carenza di personale sanitario che la CGL denuncia da ormai troppo tempo si è acuita con il manifestarsi della pandemia da Covid-19 che oltre a mettere in crisi il fragile sistema sanitario nazionale, regionale e territoriale ha prodotto effetti travolgenti sull'assistenza territoriale e locale da sempre la cenerentola della sanità. Nel nostro territorio questo ha avuto un impatto ancora maggiore per la grande privatizzazione della sanità che nella nostra provincia ha tolto risorse economiche della sanità pubblica e quindi della sanità territoriale in quantità non riscontrabili in nessun'altra parte del territorio siciliano. Ma c'è dell'altro e c'è una Direzione Generale dell'Aspoli di Siracusa che ha dimostrato di non avere una visione strategica adeguata della medicina territoriale. Manca una minima organizzazione di prospettiva e di prevenzione dei problemi facilmente prevedibili. Non si può dire a buoi ormai fuggiti che non si trovano medici per coprire i turni di guardia. È ancora vivo in noi il ricordo della disorganizzazione dei mesi di marzo e aprile 2020 quando in piena pandemia che ha travolto e si è scaricata sugli utenti e sugli operatori sanitari molti dei quali si sono contagiati e ricoverati è stato necessario l'intervento di un team di esperti esterni all'Aspoli di Siracusa per porre un argine al dilagare del Covid-19 negli ospedali del territorio siracusano. Non ci vogliamo sostituire alla Direzione Generale dell'Aspoli ma siamo convinti che le soluzioni esistano a cominciare dalla razionalizzazione delle enormi risorse umane ed economiche che sono dedicate ad altro. A noi sta a cuore la risoluzione del problema e quindi se può servire siamo pronti e disponibili al confronto. Una cosa è certa, non potremo tollerare che a un territorio venga negato il diritto fondamentale alla salute. Lo dichiarano il Segretario Generale CGL Siracusa Roberto Aloso e il Segretario Generale FP CGL Siracusa Jose Sudano.